All'è un nostro giro in dei paesi bestiloghi, stu bene, arricchigant semmo in Bigu, in dove c'aspetta Jean-Philippe Mattei. Buona zera, Jean-Philippe. Saluto stella, saluto a tutti e salute stasera a semmo in Bigu. O paese è il più maio, il più importante di l'Ansegno Gantone di 2 isoro, per parlare di suo paese. Un invitato stasera, Parawa, Omanco, Jean-François Panigali, salute. Salute. Allora, voi siete un paesano, avete 82 anni, ho venuto appena bene il paese. Sette di nuovo con fratello, ne parleremo appena dopo, di la confraterna. Aolivè, del geografico e del ribombo di Bigu, in Sourudion qui, chi ne pensate veramente centrale Bigu qui? Voilà, il centro, praticamente, del punto di passaggio che dà, pardonne, il paese della montagna, Guagno, Ioanni, Poggiolo, Horto, Socia. Dunque, qui è un luogo di passaggio, si può bere tutti i giorni o passaggio, ma c'è molto momento che la gente è in un punto di visita che diavola di Grena. E c'è di nuovo Bigu, c'è di nuovo a Piaggia, con parecchie paesi, il Savone, è importante? Sicuramente che Bigu può portare un litorale in Savone, che è un po' di sviluppo, attualmente non si trova praticamente a Saif, il resto è un hotel, è un punto di passaggio praticamente di nuovo, per andare a Zananta Cardiesi e Galanchi di Piano. Per i paesi che possiate voi, in tutti i casi, come vi dite a Saffare qui, che a Piaggia si sviluppa assai? In Bigu c'è quanto un comando, ma come vi dite a Saffare qui? Il problema per noi è che si sviluppa tutto il litorale e praticamente il paese si vuole, non c'è mica di bere l'avore, sicuramente. C'è l'avore, c'è l'avore, c'è l'avore, c'è l'avore che collano, ma collano giusto per bere il paese così, ma a Zananta tutto il mondo si arriva a perci a Piaggia. Di noi hanno privilegiato il sviluppo di a Piaggia. E tutto ciò che è previsto, d'après il senso che si prepara, a continuare a migliorare un po' la Piazza Saffare. Allora, parliamo qui appena di urbanismo e di politica, ma possiamo parlare anche di cultura, posso dire a Zepetti in Bigu, Jean-François, a Zepetti, voi i telespettatori qui a Cultura sei presenti in Bigu. Parleremo stasera di un festival di cortica cantabile, un festival di musica a distanza, a sapere di ciò che è, e noi abbiamo fatto con Morgane Plouchard, Ian Benard e Maricely Insport. In un'amore tirato di attraviata, l'opera famosa di Giuseppe Verdi, Libiamo, arribo un batte indigia di Murzo Arrimani. Una ripetizione in un quadro di un festival di cortica cantabile. Questo paramaglio sarà prodotto in Piazza Sousa Abattopatio dell'evinimento di modo spettacolare. Il tema, una cata scala di Milano, un'idea di Hugo e sa chapitre. La cata scala di Milano è stata una cata scala di Milano. molto popolare, come l'Ibiam, e poi altri un po' più particolari, per s'adaptare alla voce di Solis, come Michel Fies, che è una voce molto particolare, contro l'alto, che è una voce molto grave per le donne. e, sì, on essaia di pliare al più grande. Per la terza nata con seguiti, a musica a distanza, un piccolo insieme di corti, legni e codi, si invita in un ruido di Wicca a Piana per un detto. Ogni anno, per l'organizzatore si cerca di scambiare l'arrondimento, l'origine delle musiche, o anche per l'artista, sono stati delle più grandi scuole di Francia e anche delle internazionali. per l'organizzatore, abbiamo voluto per questa edizione grupper il massimo di persone e di musica, un programma eclectico, quindi abbiamo cercato di fare tutti i orizzonti, con i cinque grandi continenti, e per gli musiciati, abbiamo cercato di fare una diversità non eccezione, ma atypica, per esempio, ci sono dei musiciati che vengono del Japone, dell'Ukraine, anche della Francia, anche dei corsi, che non erano l'anno l'anno l'anno, e abbiamo cercato di tutte le rassemblo, per le fare giocare tutti insieme. Dopo la settimana scorsa, il festival ha fatto una piazza anche per la lingua gorsa, e continuò di stasera in Cardiese, con un concerto di mandoline e due mani in piana con la musica classica. i due due annunci, hanno un'epoca di idee parlano che bene, e mica solo l'istate, ma parola a qua in bocca. Allora, abbiamo visto Gianfrançois, e noi abbiamo detto, parlavamo di un festival di corsica cantabile, che dà voi, se è un tanto cultura, un bigo importante per voi? Sicuramente, ma buono, è vero che noi in bigo abbiamo sempre cantato, ci sono sempre stati cantatori, che cantavano veramente bene, allora ha diminuito un po' carillo, perché si canta meno, ma comunque, manteniamo un po' la tradizione, per esempio, il guindigio avosto, anche la piazza Iaesia, abbiamo fatto una chiamata, come noi avevamo tutti gli anni, di ritrovarci, e di fare come le tempi eserinate, che noi facciamo, all'antica, anche i nostri cantanoi, quindi abbiamo ritrovato tutta una seratina, per rimettere in ballo tutte queste canzone, proprio della nostra regione. quando esiste il luogo in Corsica. Il luogo in Corsica. So, Giorgini, buon tazio, siete i nostri secondi invitati. Allora, Bojdeno, a vita di suo paese, la conosciuta appena bene, di sì tempi l'andane, chi si può dire? So che l'ha detto, so che l'ha detto, il Gio Francesco, ha parlato di Zerilante e dell'affare, ma Zerilante, erano vatti, soprattutto, ai giovani maritati, sotto i finestri. Buon, questo, non voglio mica parlare, so che l'ha detto, io Francesco, ma io voglio parlare, voglio parlare di Vigo. Quando eravamo Zerilante, quando eravamo Zerilante, all'epoca, Vigo, era un centro, come era, c'era per noi, per noi, per tutti i paesi, non c'era mica scuola, e tutti i paesi lavoravano giovani, e poi, a fare corse, e poi, portavano, un'idea lì, ma, vedete, non c'è più niente, all'epoca, mi ricordo, di una festa di 15 agosto, c'era due valli, un milaio di persone, poco presso, un milaio di persone, perché, 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 un tipo che faceva, faceva una cosa, una missione, ci ha domandato, a noi, di 11 anni, quanto c'è paese, quanto c'è paese, in Vigo, allora, diciamo, 1000, 1200, 1300, un tipo, deve essere lontano, perché c'è 2003, all'epoca, vedete, un po' e avance più niente, e come campate qui, allora? Ah, campiamo, a ridinata, si campano sempre, e poi, quelli che stanno vivendo, sanno come lo seguire, avete già Francesca, lì stessa, semmo di, c'erano trovare, a dove è il nord, a nostra carriera, che volete fare, eravamo partuti, è così l'affare, c'è di noi, una confraterna, Jean-François, in Vigo, ne fate parte, ci potete spiegare, cosa vuole? Noi, dopo il 96, avevamo fatto una confraterna, che si chiama, la confraterna, dopo, dopo, l'Albini, allora, venendo un po' di tutti i paesi, di Poggiolo, non siamo mica, Cadivico, è una confraterna, proprio, della regione, dunque, noi, la seconda, prima, è religiosa, al sistema, tutte le veste, ma, di noi, siamo, imbricati, in una, in una, società, proprio, del paese, per esempio, quando c'è una veste, del paese, tutto il mondo, partecipiamo, non c'è una confraterna, e, il più, che non partecipiamo, di noi, è l'intare, e qui ne avevamo pareti, in una nata, di un anno, il mio padre, dice, come è, vi avevamo fatto un terraman, dalla nera, non è vaginomica, noi ne avevamo, da l'ora, qui, di giugno, 30 anni dell'anata, dunque, accompagniamo le famiglie, voilà. T'ha un ruolo sociale, assai importante. e poi dopo di nuovo, par aiutare, ci avremo poco tempo, o Gianfrancois, aiutare assai a iente, ha già compi, si è obbligato a compi, o Gio Gio Gini, mi scuso, ci avremo poco tempo, tutto il tempo di ringraziare, le nostre squadre tecniche, a Gio Gio Gini e a Gianfrancois Panigale, che ci hanno aiutato assai, stasera, di dire che, ci ho ringraziato di nuovo a Maritadei, che c'è un ruolo importante, a Frans 3 Corse, e che noi, ci ritroveremo, la settimana che viene, in Balagna, in Belgore. Buona zi.